Ora o mai più, l'atteso rapporto sul clima del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite avverte Non c'è più tempo Il cambiamento climatico è giunto alla sua fase di irreversibilità? Sentiamo il parere di Massimiliano Fazzini, docente di rischio climatico presso l'Università di Camerino climatologo e referente del team rischio climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale La giornata Habitat può cominciare Professor Fazzini, qual è il suo giudizio rispetto al documento firmato dal gruppo intergovernativo di esperti sotto l'Egida dell'ONU? Questo valore di 1,2 gradi piuttosto che quello di 1,5 gradi che si potrebbe raggiungere nei primi anni del terzo decennio del XXI secolo Potrebbero essere sovrastimati come anche sottostimati Cioè a Parigi si è detto 1,5 gradi livello di potenziale di irreversibilità Attualmente siamo a più 1,2 Ma se i conti derivassero, tra virgolette conti, derivassero da dati sicuramente più omogenei Non solo potremmo avere magari una sopravvalutazione di questo dato Magari potremmo essere a più 0,9, più 0,8 rispetto all'era preindustriale Ma potremmo anche essere a 1,6, 1,7 E quindi questo per dire che questo valore 1,5 A mio modesto parere è molto aleatorio Qui c'è semplicemente l'evidenza che gli ultimi 20 anni sono stati quasi sempre più caldi Da quando abbiamo osservazioni meteorologiche Che i periodi, le ondate di calore stanno aumentando in estensione temporale e in quantità Che i periodi freddi stanno diminuendo in estensione e in quantità Quindi stessa cosa simmetricamente Perlomeno questo nel continente europeo Evidentemente è chiaro che l'atmosfera è un sistema libero nella troposfera Poi caotico quando si vuole Quindi è chiaro che ci sono altre zone In cui magari ci può anche essere una controtendenza termica Quello che però oggi giornata dell'acqua è veramente più preoccupante È questa irregolarità nelle precipitazioni E qui dire che tutto ciò dipende dal cambiamento climatico o meno In maniera totale è molto difficile E pur essendo spesso e volentieri catechizzato questo pensiero Dalla stragrande maggioranza della comunità scientifica A mio parere ci vogliono ancora più dati per essere sicuri Che questa irregolarità delle precipitazioni dal punto di vista spaziale e temporale Possa essere tutta ricondotta esclusivamente alla forzante termica Nel nuovo rapporto si conferma che sono le emissioni di gas serra di origine umana Alimentate dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili Che stanno provocando il caos sul pianeta Il suo commento? Ma allora qui si può essere, ripeto, catastrofisti, negazionisti Ma quando noi abbiamo a che fare con dei grafici, con dei numeri Che evidenziano un rapporto di una certa, statisticamente valido Tra tante variabili che concorrono all'aumento dell'inquinamento Tra virgolette in troposfera e l'aumento delle temperature È chiaro che è innegabile che ci sia questo rapporto evidente Tra aumento di gas serra e forcing termico Del resto, per quello che abbiamo potuto capire finora Questo aumento della temperatura negli ultimi 50 anni in particolare Non è mai stato rilevato né dai dati reali Quindi quelli caratterizzanti negli ultimi due o trecento anni Né da altri dati, da metadati che noi chiamiamo proxy Che ci permettono di costruire con una buona attendibilità Il dato di centinaia di anni, di millenni O di decine di migliaia di anni passati Ora, il problema è questo, come fare? Ma negli accordi di Parigi e delle varie coop L'idea è buona, non c'è nulla da fare In tal senso l'Europa bene o male si sta muovendo Il processo di neutralità carbonica che ci siamo imposti E per quanto riguarda i paesi europei Sta procedendo più lentamente di quanto si vuole E ci si aspetti Però evidentemente c'è già un'evidenza Di un processo fattivo verso la neutralità carbonica Ma quando i paesi di quattro Quando, scusate, la popolazione di quattro paesi Che ha somma circa 3 miliardi e 200 mila persone Non ha sottoscritto in calce questi accordi Evidentemente l'atmosfera, essendo un sistema aperto Non ci permette di mantenere Questo processo fattivo di neutralità carbonica Sopra le nostre teste valido Perché purtroppo l'atmosfera gira Le correnti a getto poi distribuiscono Questi inquinanti che concorrono in maniera evidente Plateale all'ultero rinnalzamento delle temperature Chiaramente dovremo imporci E dovremo imporre agli altri Ma questa è una cosa che democraticamente non si può fare Di rispettare gli scenari IPCC che sono caratterizzati da minori emissioni di gas serra Graduali, per carità, ma evidenti E allora a questo punto si può sperare Che la situazione non peggiori O comunque possa rimanere sul filo del rasoio Della resilienza, di quel po' di resilienza Che evidentemente potrebbe essere rimasta Continua a esistere il conflitto tra il gruppo dei paesi più ricchi E i paesi più poveri Che pagano le conseguenze di quanto sta accadendo al clima Due orientamenti che si sono scontratti Sulla parte del documento Che riguarda le azioni da mettere in campo Per cambiare rotta Questa è una cosa che veramente Mi fa inorridire Mi fa inasprire più che inorridire Perché non è possibile che Questo atroce sfruttamento dei paesi Del cosiddetto, attenzione, terzo mondo Abbia portato non solo all'impoverimento Di questi stati, di queste aree Altrimenti, secondo me Totalmente all'altezza di produrre un'economia di rilievo Viste le materie prime che ci sono Ma soprattutto con la deforestazione Con lo sfruttamento del suolo Purtroppo stanno pagando Proprio quantitativamente Il prezzo più importante In questo riscaldamento climatico Quando un suolo non è protetto Dalla foresta Chiaramente si scalda maggiormente Un albedo minore Evidentemente alla mesoscala Ma anche a grandi scale Il regime delle precipitazioni cambia Per cui non basta solo Quell'ipotetico risarcimento In materia economica Che è stato caratterizzante L'ultimo COP di Sharm el-Sheikh Noi dobbiamo fare di più per questi paesi Dobbiamo assolutamente ripagare Eticamente e moralmente Il disastro che è stato fatto Per cui io non posso accettare Che in un rapporto del genere Ci sia il benché minimo contrasto Tra pensieri Questa è la prima cosa Che dobbiamo fare Perché siamo assolutamente Intorto Tra virgolette Con questi paesi E con milioni e milioni Di persone Che purtroppo Vivono carestie Ripetute E che veramente Riescono a vivere Con un euro al giorno Quando purtroppo Non vengono meno Proprio per una questione Di mancanza di alimenti Di acqua Le scelte Che faremo Nei prossimi anni Giocheranno Un ruolo fondamentale Nel decidere Il nostro futuro E quello delle generazioni Che verranno Il tema più urgente? Sapete che negli ultimi 50 anni Ci sono stati Oltre 200 conflitti Internazionali Più o meno importanti Più o meno conosciuti A causa dell'acqua L'acqua sta diventando Il futuro oro Perché con questa Distribuzione irregolare Delle precipitazioni Se dal punto di vista Spaziale Che temporale Veramente Potremo avere Nei prossimi anni O decenni Delle migrazioni Di massa Da paesi che si stanno Irredendo O desertificando Verso paesi In cui il regime Idroclimatico È ancora accettabile Quindi Ripeto E esorto Tutta la popolazione Non possiamo più Sprecare una goccia D'acqua Del resto Però Non è possibile Altro discorso Che purtroppo Mi fa molto male E che detesto Prendere in considerazione Anche se è il primo A doversi prendere È che È stato ribadito Oggi Che il 43% Dell'acqua Che si ha a disposizione Viene drammaticamente Sprecato Dall'infrastrutture Che sono assolutamente Da paesi Del quarto mondo Non del terzo mondo E qui chiaramente Mi riferisco Al nostro paese Al nostro piccolo paese Quindi evidentemente Un appello Accorato Al governo Che inizi Una politica Di Infrastrutturale Importante Visto è considerato Che la gran parte I nostri acquedotti Almeno 40-50 anni E soprattutto Ripeto Anche noi Del nostro piccolo Dobbiamo iniziare A risparmiare l'acqua Poi Evidentemente Creare Un discorso Di sviluppo Sostenibile Da qui in poi Basato Sul miglioramento Dell'ambiente Cercando Di addirittura Di trarne Beneficio Sono i processi Di adattamento Ai cambiamenti Climatici Oltretutto Sono evidenziati Nel Oramai Quasi nascituro Piano nazionale Adattamento Ai cambiamenti Climatici E molti piani Alla scala Di bacino Comunali Che sono stati Prodotti Da me E da molti colleghi A presto